Bisogna partire con il piede giusto, è fondamentale, perché altrimenti perdere due partite sarebbe deleterio, proprio dal punto di vista mentale, anche se poi si può recuperare qui in Abruzzo e puntare tutto sulla quinta. Sicuramente, come detto tu, partire con il piede giusto sarebbe fantastico, perché vincere almeno una delle due e tornare a casa con due partite casalinghe da giocare con il pubblico dalla nostra parte, che ci spingerebbe tantissimo, sarebbe importantissimo, sarebbe fantastico. Però, vi dico a voi che le serie a cinque partite sono molto complicate, sono molto lunghe, si può partire bene e magari poi può cambiare l'inerzia all'interno della serie, si può partire male e si può riuscire a ribaltarla anche in un secondo momento. Quindi io penso che bisogna pensare partita dopo partita, non abbattersi se si va giù, 1-0, 2-0, non esaltarsi se si va su, perché anche stare 2-0 non è che si è passato il turno, perché può cambiare una partita che si perde e magari poi l'inerzia dal punto di vista mentale, dal punto di vista anche tecnico, può passare a vantaggio dall'altra squadra. Quindi assolutamente dobbiamo rimanere, bisogna pensare partita dopo partita, naturalmente andremo a Salerno provando in tutti i modi a vincere una delle prime due partite. Voi in fondo avete anche un po' delle regolette riposato qualche giorno in più, perché Salerno ha eliminato in quattro gare Chieti. Può essere così considerata una cosa buona, soprattutto sotto il profilo fisico per qualche giocatore acciaccato dell'amatori? Sicuramente un piccolo vantaggio può essere, perché dopo queste tre partite che abbiamo giocato domenica, martedì e venerdì, tre partite in cinque giorni molto intense, i ragazzi tutt'oggi, martedì e mercoledì ancora, erano stanchi, affaticati, nonostante fossero già passati 3-4 giorni. Quindi giocare tre partite in così pochi giorni è sicuramente qualcosa che lascia le scorie all'interno del proprio corpo, sia fisiche che mentali. Loro ne hanno giocato uno in più, più anche un supplementare con Chieti, però è logico che dopo in questo momento essere stanchi è una cosa fisiologica, perché si è giocato tante partite e si è a una fase finale del campionato, quindi sono tanti mesi che ci si allena, però credo che in questo momento i ragazzi hanno la forza per andare a trovare ulteriori energie. Di sicuro il fatto che loro hanno giocato una partita in più, tra virgolette possono essere più stanchi, ma più che essere più stanchi hanno avuto due giorni in meno per recuperare, però io credo che sette giorni per arrivare a domenica della prima gara comunque anche loro avranno recuperato bene.